parte questa sera il festival Claudio Monteverdi inaugurazione affidata proprio al compositore cremonese con il combattimento di Tancredi e Clorinda e il ballo delle ingrate oggi noi siamo andati a seguire in anteprima le prove ci troviamo al teatro ponchielli siamo venuti qui proprio per dare una sbirciatina prima che si alzi il sipario questa sera alle 21 inizia proprio questa sera il festival Monteverdi che quest'anno è dedicato alle nazioni una sorta di percorso dedicato ad expo che quest'anno si occuperà anche di cibo in questo caso la musica diventerà nutrimento per l'anima questa sera qui al ponchielli ci sarà un vero e proprio esperimento una cosa mai fatta prima d'ora avremo modo di vedere sul palco non degli attori non dei cantanti ma delle marionette e noi a questo proposito abbiamo incontrato il regista di questo spettacolo e il direttore musicale che si sono buttati a capofitto in questo progetto un progetto bizzarro però che ha dato risultati ottimi e questa sera gli spettatori del ponchielli avranno modo di toccare con mano e quindi di rifarsi gli occhi e le orecchie per lei non è la prima volta al ponchielli un abitue questo ritorno com'è? Beh è azzardato piacevole come sempre perché sembra di tornare a caso in famiglia è un teatro molto particolare con personaggi molto particolari quindi uno si trova a proprio agio un ritorno azzardato perché le marionette si occupano per la prima volta del mondo musicale di Monteverdi che non è una cosa così così semplice e così facilmente avvicinabile al discorso marionette Come è stato lavorare a questo progetto? Beh è stata una follia perché bisognava pensare delle cose assolutamente fuori dall'ordinario tanto è vero che anche tecnicamente abbiamo costruito dei ponti nuovi che non abbiamo mai sperimentato in nessuno spettacolo perché credo sia uno spettacolo nato assolutamente per questo teatro che mi auguro poi possa conoscere anche altri luoghi ma bisognava tener conto che comunque era il ponchielli il ponchielli molto grande che ponchielli ha una grande visibilità e che le marionette dovevano risultare come dei cantanti anche se in buca ce ne sono di quelli veri ma che bisognava trasmettere col gesto, il suono, la voce, tutte queste cose Musica e marionette, un connubio molto particolare dietro questa scelta, ci sei tu? Sì è un'idea che inseguivo da molto tempo quella di questo connubio tra la musica barocca che è quella di cui io mi occupo soprattutto come musicista quindi con determinate regole, un certo rigore filologico, strumenti antichi, voci di un certo tipo eccetera eccetera è un mondo che mi ha sempre affascinato quello delle marionette, del teatro di figura in generale io devo confessare di essere un grande ammiratore della compagnia Colla, quello che fa Eugenio, è un mondo che affascina, che a volte troppo spesso associato al mondo dei bambini o a un pubblico diciamo infantile ma a mio avviso in modo del tutto errato perché anzi si possono toccare livelli di poeticità, di altezza, proprio di espressione di espressività veramente notevoli. Ieri abbiamo fatto un filage e devo dire che lo spettacolo funziona molto bene e veramente colpisce per molti aspetti e direi una parola che un po' se vuole sintetizza questa esperienza è quella della maraviglia che è una parola barocca, rinascimentale barocca, quindi la meraviglia è quella che spero poi proveranno anche gli spettatori ed è una delle parole chiavi per comprendere il barocco sia musicale sia letterario che in questo caso teatrale.